Altro giorno, altro giro, altra corsa, il tempo sembra assisterci ma non voglio dirlo troppo ad alta voce perché il cielo non è che sia proprio bellissimo, però c'è il sole e niente, il mio mal di testa cervicale ancora c'è, quindi spero che passi presto nei prossimi giorni e stavo rischiando di finire però vabbè, tutto sommato va tutto bene mattinata tra donne, abbiamo fatto una bellissima colazione e ora andiamo a fare qualche acquisto e devo dire che a me non capita mai di fare una colazione a Milano tra amiche chiudiamo con altre foto di Rosalinda, la sua panciona che di stesa sembra veramente piatta il nostro Zenga e poi non può mai mancare il momento dog, in questo caso è Kinu che è un altro protagonista di questo canale prima i cani e dopo Geffini, Rosalinda, Chiara Ferragni e quant'altro vi lascio così, non offendetevi, un bacione, ciao!